Si è trasformato in tragedia l'annuale raduno religioso a Oromia, sud-est di Addis Abebe, in Etiopia. Alla manifestazione partecipavano almeno 2 milioni di persone. Alcune hanno cominciato a scandire slogan antigovernativi. La polizia, per disperdere la folla, avrebbe sparato gas lacrimogeni e pallottole di gomma, scatenando il panico. Il bilancio non ufficiale parla di centinaia di vittime, la polizia di 50 morti. Di fatto sono decine le persone precipitate nei fossi che circondano la zona e rimaste schiacciate da chi cadeva dopo di loro. Il governo ha annunciato che i responsabili pagheranno davanti alla giustizia. Da mesi l'Etiopia è teatro di proteste organizzate per una maggiore libertà, ma anche contro un piano di espansione nella regione di Oromia, che ha generato malumori, specie tra i numerosi contadini della zona, preoccupati di dover lasciare le proprie terre. Nei giorni scorsi anche gli Stati Uniti si sono detti preoccupati per l'eccessivo uso della forza da parte dell'esercito contro i manifestanti.